Anticipano quella che potrebbe essere una delle nuove disposizioni che il governo Conte metterà in campo da questo mercoledì per arginare un nuovo innalzamento del contagio, i comuni di Fossato di Vico e Gualdotadino, i cui sindaci hanno emesso ordinanze che impongono l'uso della mascherina nel momento stesso in cui si esce di casa, dunque non solo in luoghi chiusi ma anche all'aperto. Questo a fronte di una situazione epidemiologica che a Gualdotadino fa contare 12 casi di positività, 4 in più nelle ultime 24 ore e 11 a Fossato di Vico con 30 persone in isolamento dopo l'impennata di venerdì scorso. Nel piccolo comune appenninico è stato individuato un focolaio che si è attivato intorno ad una signora risultata positiva dopo aver perso di colpo olfatto e gusto. Abbiamo ritenuto che questa fosse una situazione da attenzionare perché la nostra popolazione è una popolazione ridotta, siamo 2000 anime, tutti conoscono tutti e ci sono intrecci di parentele molto forti per cui la possibilità della diffusione del virus è molto molto grande secondo noi e per cui abbiamo deciso anche di adottare tutte quelle misure necessarie per far sì che la diffusione venga ridimensionata o quantomeno non venga permessa sul territorio. Gli uffici del palazzo comunale sono stati chiusi all'accesso al pubblico, l'edificio è in ristrutturazione e dunque gli stessi ambienti dove si lavora al momento sono ristretti, da qui la scelta di favorire lo smart working e il rapporto telematico o telefonico con i cittadini. Ciò non significa che se un cittadino ha delle necessità queste non vengono soddisfatte dall'ente pubblico ma significa che ci sono diversi mezzi e solo qualora l'accesso in comune non potesse essere sostituito con un altro mezzo che può essere il telefono, la posta elettronica, allora logicamente con tutte le accortezze del caso verrà consentito ma di certo l'assembramento in comune questo no.